Una battaglia di civiltà che abbiamo vinto, che il Partito Democratico ha vinto dopo un grande lavoro svolto soprattutto in Consiglio regionale. Per la prima volta, dopo il decreto commissariale del 2016, tutte le ASL abruzzesi si uniformano in merito alla somministrazione di preparati galenici a base di cannabinoidi, quindi cannabis terapeutica, e anche e soprattutto per il rimborso. Il rimborso che veniva praticato per alcune ASL, come l'ASL dell'Aquila, non veniva praticato per esempio per l'ASL di Pescara, dove tanti pazienti che non se lo potevano permettere e che sapevano che non c'era appunto il rimborso, facevano ancora uso di opioidi. Due interpellanze, la prima a maggio del 2019 per denunciare questa mancanza di uniformità, la seconda ad agosto per chiedere ancora una volta questa delibera, che c'era stata promessa per il mese di novembre, è arrivata a dicembre. Siamo comunque molto molto felici. Oggi veramente si rimette al centro soprattutto il diritto alla salute di tante persone.